Come è il comune di Eraclea? Siamo Eraclea, un comune di circa 12.000 abitanti, che ha una storia antichissima che parte addirittura in periodo paleoveneto e successivamente in epoca romana divenne un centro molto importante. Con le invasioni barbariche le popolazioni si spostavano dalla terraferma sempre più verso le isole e le zone paludose ed Eraclea divenne un centro molto importante al punto che in epoca bizantina diventa una vera propria capitale della neonata Venezia. Nel XVII secolo, dopo le deviazioni fluviali della Serenissima e l'assestamento idrogeologico della zona, Eraclea ricominciò a popolarsi e nel 1806, con la creazione del Regno d'Italia sotto Napoleone, divenne comune. In quel periodo il comune si chiamava Grisolera, il nome deriva da Grisioe, cioè il cannetto, a testimonianza di come fosse una zona paludosa. Fu ovviamente coinvolta dopo Caporetto nella Grande Guerra e subì l'occupazione degli austri-ungarici per un lungo periodo. Lo sviluppo urbano ripartì con le grandi bonifiche dal 1920 al 1940, in cui ritornò ad essere un importante centro agricolo. Questo periodo fiorente, sia dal punto di vista economico che urbano, si sviluppò fino al 1200, quando un'esondazione naturale del Piave riportò la palude attorno ad Eraclea e con la palude arrivò la malaria e il conseguente spopolamento dell'area. Cominciarono anche a svilupparsi le attività balneari lungo la costa, da cui nacque Eraclea Mare, che oggi è un'importante località balneare più volte premiata dalla bandiera blu. Nel 1950, con decreto presidenziale, lasciò il vecchio nome di Grisolera, riprendendo l'antico e prestigioso nome di Eraclea, poi trasformato in Eraclea.